La Croazia dice no e lo dice agli Stati Uniti. Il presidente croato Zoran Milanovic ha preso una posizione di netta contrarietà nei confronti di un eventuale intervento nato nella contrapposizione con la Russia. In questo momento la crisi ucraina sta mostrando tanti aspetti, tante sfaccettature, soprattutto quello che risulta particolarmente difficile da comprendere e quale siano le reali motivazioni di una contrapposizione così forte tra Russia e Stati Uniti nel nome dell'Ucraina. E la Croazia evidenzia questi aspetti. Come detto, Zoran Milanovic ritiene che la Croazia, nel caso in cui ci fosse una conflittualità con la Russia, ritirerà immediatamente i suoi soldati dal contingente della Nato. Milanovic ribadisce e sottolinea che l'Ucraina è al di fuori della Nato e sostanzialmente il problema della contrapposizione tra Russia e Stati Uniti ha un riflesso per quanto riguarda la politica interna statunitense. Infatti Joe Biden si trova ad affrontare delle problematiche interne, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di una politica estera particolarmente debole, che si è manifestata nel corso del suo primo anno di mandato. Basti ricordare alla fine di agosto la decisione di uscire dall'area strategica dell'Afghanistan, consentendo in questo momento, nella realtà dell'Asia centrale, gli interessi maggiormente presenti della Repubblica Popolare Cinese e della Russia stessa. Insomma, delle scelte che nel contesto statunitense non piacciono affatto in un momento in cui anche gli indici di gradimento di Joe Biden stanno precipitando. Ebbene, la politica di Milanovic sembra proprio andare nella direzione di una posizione risoluta in questo senso, non una contrapposizione con la Russia in un contesto europeo per favorire sostanzialmente problematiche interne degli Stati Uniti. La questione quindi di conseguenza si complica anche perché mette in evidenza come gli Stati europei non seguono sostanzialmente in maniera unita e compatta la visione atlantista e soprattutto non ritengono opportuna una contrapposizione con la Russia e in generale quelle visioni strategiche e geopolitiche che sarebbero maggiormente gradite agli Stati Uniti. Sostanzialmente un allontanamento dalla Repubblica Popolare Cinese, un allontanamento dalla sfera russa, mandando irrimediabilmente a danneggiare le potenzialità rappresentate dagli interessi commerciali proprio verso l'Estremo Oriente e tutte le necessarie relazioni con la Russia per quanto riguarda le risorse energetiche. Tant'è vero che lo stesso Joe Biden ha ritenuto opportuno sottolineare che la Russia non utilizzi le risorse energetiche come ricatto nei confronti della stessa realtà europea. Insomma l'Europa al centro della questione e soprattutto che evidenzia nuovamente ed ulteriormente come gli Stati membri della stessa Unione europea ma anche delle altre organizzazioni internazionali di cui fanno parte sono sempre particolarmente mancanti di una linea strategica e geopolitica comune. Per oggi questo è tutto.